Musica Bentornato Goodler, bentornata Ora ci avviamo a spiegare le funzioni di un animale o meglio, quello che viene definito il mouse A cosa serve? Ovvio, non a far funzionare il mouse in quanto tale ma a modificare alcune impostazioni per personalizzarlo In quanto periferica, i driver per il riconoscimento da parte del sistema operativo si installano automaticamente per cui lo stato della funzionalità del mouse lo puoi rilevare visionando la sezione gestione periferica del pannello di controllo Le azioni in questo caso, per quel che riguarda il pannello di controllo alterano alcuni parametri per rendere il mouse più performante e vicino alle tue necessità d'uso Come si accede, ormai, credo che tu lo abbia capito avviando il pannello di controllo, troverai il pulsante mouse Avuto accesso a tale sezione, troverai una maschera che presenta altre sottosezioni che sono pulsanti, puntatori, opzioni puntatori, rotellina e hardware Vediamole una per una La sottosezione pulsanti trova a sua volta altre tre suddivisioni Configurazione pulsanti, velocità doppio clic e blocca clic La prima opzione ti consente di invertire la funzionalità dei pulsanti del mouse in modo da agevolare l'uso degli utenti mancini Inserisci un segno di spunta in questa casella e si attiva immediatamente la funzione quindi fai attenzione perché potresti non ritrovarti con i clic del mouse Tale situazione, quindi l'attivazione immediata della funzione sarà abilitata anche in altre opzioni durante questa lezione Premendo però il pulsante annulla, rigetterai le impostazioni o le selezioni che avrai appena impostato Spostando il cursore lungo questa barra di scorrimento destra, sinistra, minimo, massimo adatterai la funzione del doppio clic alla tua velocità Posizionando il valore al minimo renderai più distante il tempo che intercorre fra i due clic mentre posizionandolo al massimo destro dovranno essere più ravvicinati In sintesi, posizionando verso la posizione minima sarà sufficiente anche fare un'operazione del tipo clic clic mentre verso la sezione destra, quindi verso il massimo dovrai fare un qualcosa del genere clic clic per avviare la funzione del doppio clic sull'elemento che andrai a selezionare Accanto al cursore c'è presente anche un'icona che ti permette di testare quanto selezionato quindi tu spostando questo cursore a destra o a sinistra cliccando su questa icona vedrai aprire o chiudere la corrispondente icona, quindi la corrispondente cartella per relazionarti con la rapidità o la maggior lentezza tra la distanza dei due clic L'ultimo parametro di questa sottosezione blocca clic permette di attivare il blocco del clic del mouse dopo che hai tenuto premuto un certo tempo il pulsante del mouse sull'elemento che andrai a selezionare ciò in modo da attivare la funzione che consente di evidenziare o trascinare gli elementi senza tenere premuto il pulsante del mouse mi spiego meglio con un esempio quando devi trascinare un file, una cartella, un elemento clicchi sull'elemento e durante il trascinamento sei obbligato o sei obbligata a tenere premuto il pulsante del mouse fino a realizzare l'azione intrinseca al trascinamento il copia e incolla o lo spostamento attivando il blocco del clic puoi far sì che clicchi sull'elemento e esso rimane selezionato dopodiché sarà sufficiente spostare il mouse nella zona dove vuoi posizionare l'elemento senza dover premere il pulsante durante tutto il trascinamento giunto o giunta nella posizione voluta cliccando di nuovo sopra l'elemento verrà portato a termine l'azione prevista dallo specifico trascinamento ossia lo spostamento o magari il copia e incolla il pulsante impostazioni presenta un cursore che ti permette di variare il tempo necessario da attendere cliccando sull'elemento affinché esso rimanga evidenziato e quindi rimanga bloccato per poter poi dar luogo allo spostamento appena descritto regolando il cursore verso il minimo ridurai il tempo necessario ad attivare il blocco del clic mantenendo premuto il pulsante del mouse sull'elemento dovrai tenere premuto per una frazione di secondo affinché venga selezionato l'elemento verso il massimo invece dovrai tenere premuto per più tempo sull'elemento affinché rimanga bloccata la funzione e tu possa trascinare l'elemento senza tenere premuto il pulsante del mouse durante il trascinamento o se devi abortire il blocco del clic sarà sufficiente premere il tasto escape sulla tastiera l'altra sottosezione presente in questa sezione del pannello di controllo è puntatori questa sezione è particolarmente grafica ossia prenderà in considerazione l'aspetto grafico del puntatore dal menu combinazione potrai scegliere un kit che rappresenterà il cursore in base alla selezione che sceglierai ciò cambierà la tipologia dell'aspetto grafico che potrai impostare quindi in pratica come puoi vedere da questa schermata andrai a cambiare la forma del puntatore del mouse scegliendo tra i valori evidenziati in questa sezione la scelta sarà evidenziabile in questa sezione cliccando sull'opzione che andrai a scegliere quindi avrai un'anteprima dopodiché cliccando su ok o su annulla farai acquisire questo nuovo aspetto la casella abilita ombra del puntatore genera una ombra leggera intorno al puntatore del mouse il pulsante predefinito riporta alle configurazioni standard per quelle che riguarda la rappresentazione del puntatore il pulsante invece sfoglia ti consente di caricare una rappresentazione personalizzata per impostarla nel puntatore la casella cambia i puntatori del mouse con il tema cambierà la rappresentazione dei puntatori in base al tema che andrai a scegliere il pulsante invece salva con nome salva la combinazione che hai scelto mentre il pulsante adiacente eliminerà, rimuoverà tale combinazione altra sezione, la sezione centrale opzioni del puntatore questa sottosezione imposta l'aspetto operativo del puntatore nella sezione movimento è presente un cursore che varierà la velocità con cui si muove il puntatore del mouse sul monitor impostando il valore minimo ridurrai la velocità e quindi il puntatore seguirà i movimenti che tu attuerai con il mouse con più difficoltà mentre verso il massimo sarà rapidissimo lascerei questo valore al centro o poco verso il massimo perché dopo potresti avere difficoltà nel gestire la posizione del puntatore altra opzione che migliora la qualità dell'inseguimento del puntatore del mouse è questa casella di spunta selezionana per aumentare la precisione del puntatore durante il movimento sul monitor in mancanza di tale segno di spunta sarà abbastanza ostico essere precisi nel posizionare il puntatore del mouse dove vorrai tu un'altra casella di spunta se selezionata ti permetterà di posizionare automaticamente il puntatore del mouse quando si apre una finestra di dialogo sul pulsante predefinito di quella finestra invece la casella visualizza la traccia del puntatore permette di creare una scia mobile durante il movimento del mouse qualora tu avessi difficoltà nel individuare il puntatore durante l'uso che ne farai sarà più o meno lunga questa scia in base alla posizione in cui posizionerà il cursore sotto tale casella la casella nasconde il puntatore del mouse durante la digitazione consente di non vedere il puntatore durante la digitazione di un testo tramite la tastiera utile per non far coprire a volte le lettere digitate dal puntatore stesso ultima casella in questa zona è Mostra posizione del puntatore quando si preme il tasto CTRL i due tasti della tastiera in basso a sinistra o in basso a destra questa funzione ti permetterà di rilevare il puntatore se non dovessi vederlo semplicemente premendo il tasto suddetto comparirà infatti un cerchio concentrico che si andrà a chiudere sul puntatore evidenziando la sua posizione altra sezione è quella chiamata Rodellina in questa sezione puoi impostare l'azione della rodellina del mouse quindi lo scroll in termini di rapidità di scorrimento delle righe o delle schermate in senso verticale oppure numero di carattere in senso orizzontale per la verticalità puoi impostare all'interno di questa casella un numero che va da 1 a 100 1 è il valore più lento 100 è il valore più rapido quindi in pratica incrementerai verso il 100 il numero di righe che scorreranno ad ogni rotazione della rodellina in senso orizzontale potrai impostare di quanti caratteri si sposterai il puntatore orizzontale se roterai la rodellina in un senso o nell'altro quindi verso sinistra o verso destra lungo il testo che avrai scritto questo se ovviamente il mouse che hai installato all'interno della tua postazione supporta tale funzione ultima sezione di questa parte del pannello di controllo è il pulsante hardware che in pratica è una sottosezione che ti consente di visionare se il mouse funziona correttamente e tra l'altro questa è un'opzione che puoi ben visionare nella sezione del pannello di controllo chiamata gestioni dispositivi e per visionare la funzionalità di tale sezione ti rimando alla lezione 111 e al rispettivo video tutorial bene Google andiamo a vedere come variare le impostazioni del mouse accediamo dal pannello di controllo cliccando sul pulsante mouse e potremmo accedere alla sezione che ci permetterà di variare alcuni parametri come detto durante la spiegazione questa casella di spunta permette di invertire la funzionalità del pulsante destro in questo caso io sto cliccando con il pulsante destro per generare questo menu attivando questa opzione il menu verrà creato cliccando con il pulsante sinistro adesso sto agendo con il pulsante sinistro quindi è immediatamente attiva tale opzione e quindi per disattivarlo dovrei cliccare con il pulsante destro perché il pulsante sinistro genera il menu che ti ho appena mostrato quindi cliccherò con il pulsante destro per disattivarlo potrai vedere il cambiamento di questa opzione cliccando con il pulsante e selezionando o deselezionando questo segno di spunta la velocità del doppio clic ti permetterà di tramite questo cursore variare la rapidità con cui puoi impostare il doppio clic facciamo un esempio spostando verso il minimo potrai ritardare di qualche frazione di secondo in più affinché il clic del mouse sia attivo come vedi in questa zona potrai eseguire dei test mentre posizionando verso il massimo se tu ritardassi un pochino di più vedrai non attivare l'opzione quindi dovrai essere più rapido o più rapida nel doppio clic io posizionerei più o meno verso il centro o leggermente verso destra per non rendere troppo difficoltosa la gestione di questa funzione il pulsante attiva blocco del clic ti permetterà dopo aver selezionato questa casella ti permetterà di spostare un elemento senza dover tenere premuto il pulsante in questo caso tenendo premuto per un certo periodo di tempo il pulsante sinistro del mouse e rilasciando questa opzione fa sì che attiva il blocco del mouse come puoi vedere il puntatore si sposta con un rettangolo adiacente e simulerà il trascinamento del file come se io stessi premendo il pulsante sinistro per abortire dall'opzione sarà sufficiente premere il tasto escape della tastiera simuliamo adesso l'effettivo trascinamento tengo premuto per un certo periodo di tempo sufficiente a far acquisire tale impostazione dopodiché posso spostare senza tenere premuto il pulsante del mouse questo specifico elemento stesso discorso se io lo volessi riposizionare all'interno andiamo a variare le impostazioni della durata di questo tempo posizionando il cursore verso il minimo e cliccando su ok facendo acquisire tale impostazione sarà sufficiente tenere premuto meno tempo per far acquisire lo spostamento in luogo di una possibile variazione in termini di tempo posizionandolo sul valore massimo e facendolo acquisire dovrò tenere un pochino più di tempo premuto il pulsante per far acquisire la funzione del trascinamento torniamo adesso a parlare delle altre opzioni la sezione puntatori ti permette di scegliere la grafica del puntatore da questo menu a tendina potrai selezionare un tipo ben definito in base alle tue necessità o al tuo piacere di configurazione di combinazione grafica per la rappresentazione del puntatore se ad esempio volessimo selezionare questo valore per far acquisire questo parametro dovrò cliccare sul pulsante applica e il puntatore immediatamente cambierà stato qui avrò l'anteprima delle varie possibili opzioni eccone un altro esempio quindi potrai scegliere in base al tuo piacere le varie opzioni il pulsante predefinito ripristinerà la configurazione del mouse a quello standard mentre il pulsante sfoglia ti permetterà di acquisire dei parametri che magari avrai avuto modo di scaricare deselezionando l'opzione cambia i puntatori del mouse in base al tema il puntatore che avrai scelto cambierà grafica in base al tema che avrai impostato oppure altra opzione abilità l'ombra del puntatore ti permetterà di visionare un'ombra dietro al puntatore per migliorare la sua individuazione altra sezione opzione puntatore in questa sezione potrai selezionare la velocità con cui scorre il puntatore come puoi vedere anche in questo caso è immediatamente attiva e è abbastanza ottico andare a posizionare e a muovere il mouse il puntatore del mouse in base ai movimenti del mouse stesso ti posso assicurare che in questo momento io sto muovendo rapidamente il mouse ma vedi che il suo inseguimento molto lento proviamo con una certa difficoltà a spostarci verso il massimo per far acquisire il nuovo valore cliccando su applica vedrai come cambia l'inseguimento posizioniamo al centro per rendere più agevole il governo togliendo questo segno degraderai la precisione del puntatore stesso quindi ti sarà più difficile posizionarti in determinate posizioni che tu vuoi quindi lascerei selezionato questo segno di spunta per mantenere la precisione altra casella di spunta posiziona su se selezionato ti permetterà di posizionare automaticamente il puntatore del mouse allorché si apra una finestra di dialogo che presenta uno o più pulsanti il puntatore si posizionerà sul pulsante predefinito un'opzione che può andare a migliorare la visibilità del puntatore stesso è abilitare la traccia del puntatore nel momento in cui vai a muoverti andrai a creare una scia più o meno grande del puntatore posizionando verso sinistra e facendola acquisire avrai una visualizzazione minima della scia posizionando invece su un massimo avrai una maggiore scia del puntatore stesso durante questa spiegazione come puoi renderti conto il risultato non è molto ottimale da questo punto di vista per quel che riguarda questa scia che lascia il puntatore ma potrai testare sul tuo desktop e vedrai che la scia sarà ben presente e visibile altra possibilità è quella di deselezionando questa opzione nascondi puntatore durante la digitazione il puntatore andrà a nascondersi o meglio non essere visionato per non intracciare la digitazione oppure altra cosa particolarmente utile può essere quella di attivare questa opzione mostra posizione del puntatore quando si preme il tasto control in pratica se il puntatore dovesse sparire nel momento in cui vai a premere il tasto control automaticamente andrà a generarsi una serie di cerchi concentrici in modo da poter visionare meglio dove è posizionato il mouse e individuarlo senza problema per l'ultima sezione è riferito allo scroll alla rodellina tramite questo valore potrai impostare un numero maggiore di righe da scorrere quando agirai sulla rodellina applicando l'opzione puoi visionare un esempio di scroll molto rapido posizionando invece questo valore al minimo possiamo portare ad esempio a 1 andando a cliccare direttamente e applicando tale parametro potrai visionare che il movimento durante la rotazione della rodellina è molto più lento quindi gestisci in base al tuo piacere questo valore per quel che riguarda lo spostamento dello scroll in alto e in basso quindi dall'alto verso il basso oppure potrai impostare una variazione uno scroll di una schermata intera per volta selezionando questa opzione l'opzione scorrimento destra-sinistra ti permetterà di spostare lungo una riga verso destra o verso sinistra di un certo numero di caratteri in base al valore che andrai a selezionare in base allo spostamento della rodellina però non tutti i mouse hanno questa funzione attivabile l'ultima sottosezione riferita all'hardware che ti evidenza subito la funzionalità o meno della periferica e ti ricordo e ti rimando alla lezione 111 e rispettivo video tutorial per andare a visionare come attivare questa opzione tramite la sezione gestione dispositivi del pannello di controllo nella quale potrai visionare altri dettagli per quel che riguarda i driver aggiornamento degli stessi ed altre caratteristiche e proprietà della periferica come tutte le altre periferiche continueremo nella prossima lezione a parlare del pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto